Marceremo fino alla prossima stazione. A noi questi orfani di merda ci fanno le seghe. Conviene muoverci. Ciao ragazzi, ben ritrovati al vostro anti-youtuber. Allora, mi stanno arrivando i messaggi degli amici, dei conoscenti, degli utenti del canale. Aiuto, siamo rovinati, il Milan da più 4 sta più 1, da meno 4 sta più 1, sono fortissimi, vinceranno il campionato, eccetera, eccetera. Theo è un turbo compressore, Tonali è il nuovo Gerard, Magnan è il nuovo Dida, tutto quello che volete ragazzi. Ma io ve lo dico oggi, anzi, intanto vi ricordo che abbiamo due partite in meno, due partite in meno, e ve lo dico oggi. A noi, questi orfani del Milan, ci fanno le seghe, ok? Mi scuso con i minorenni utenti al canale ragazzi, però a noi, questi orfani del Milan, ci fanno le seghe. Sono primi, hanno due partite in più, hanno giocato due partite in più. Noi dobbiamo ancora giocarne due, di cui una forse ci danno anche la vittoria a tavolino, ma non la voglio, l'avremmo dovuta giocare, perché quando si tratta di noi, giustamente, la regola non era ancora, diciamo, approvata, adesso si poteva giocare perché avevano 13 maggiorenni più il portiere, ma non mi interessa. Basta, ogni cosa, sempre a guardare casa degli altri come se fosse migliore della nostra. Stanno giocando con il Venezia. No, ma il Venezia ha fermato la Roma di che cosa? Eh, però al Milan gli danno i rigori, e di che cosa vi stupite? Sono due anni che vanno avanti con... a parte che oggi avrebbero vinto perché stanno giocando bene, punto. Ma sappiamo... ma che vi stupite? Sapete che è da due anni che vanno avanti con rigori a favore e rigori a sfavore non dati. E ripetiamo sempre le stesse cose. Allora decidetevi, o vanno avanti a rigori, o sono fortissimi, fenomenali, come ogni volta che magari fanno tre vittorie consecutive, voi vi viene la paura nella testa. Ma che... hanno due partite in più e sono a un punto. Due partite in più e sono a un punto. Se vinciamo le partite, andiamo a più quattro. Più quattro! Più quattro! In un mese ne abbiamo dati dieci di punti. Perché non dovremmo dargli le altre dieci? Quindi state calmi. Lo so, stasera la Lazio è difficile perché la Lazio ci ha sempre rotto i coglioni, i nostri fratelli della Lazio. Ci hanno sempre... la squadra della Lazio ci ha sempre rotto i coglioni. È sempre stato, non dico una bestia nera, ma quasi. Non interessa. Abbiamo una partita in meno ancora. Quindi state tranquilli. Ogni anno si ripresenta questa cazzo di fase con un Milan che comunque è nettamente inferiore all'Inter. Ma non è che ce lo dicono i Milan, perché i milanisti fanno bene a crederci che vinceranno lo Scudetto, che Leao è il nuovo Thierry Henry, che Daniel Maldini è il nuovo Shevchenko. Loro fanno bene ad illudersi. Ma quello che mi fa specie è vedere gli interisti depressi, gli interisti da campioni d'Italia, interisti da campioni d'Italia, depressi perché il Milan ha un punto con due partite in più. Ok? Tu ne puoi fare sei. Passo e chiudo. Quindi mi raccomando, frega cazzi dei rigori che... Anzi, frega cazzi, quello di Abram è stato scandaloso. No, ma si vede, il Fermi è stato scandaloso. Questo di Florenzi era rigore per il Venezia. Io penso che avrebbero vinto lo stesso. Ma a me non mi interessa. O che vincano tutte le partite, tutte le partite! Noi siamo l'Inter e conquisteremo, anzi, ribadiremo, la nostra leadership per quanto riguarda il campionato italiano. Poi la Champions League ci stiamo attrezzando. Passo e chiudo. Iscrivetevi al canale, se la pensate così, attivate la campanella e basta ad allarmarvi ogni tre vittorie consecutive del Milan, basta ad allarmarvi e cagarvi sotto. Perché, ripeto, chi ha visto il film The Warriors, questa citazione, la conosce. A noi, gli orfani, ci fanno le seghe. Passo e chiudo. Iscrivetevi al canale, a te la campanella. Forza Inter. Ci sentiamo per il fine primo tempo. Faremo la live di 15 minuti. Inter-Lazio, primo tempo. Ciao ragazzi. Forza Inter.